Questo che vi sto inquadrando è una pianta della famiglia delle asteracee, è un Eglianthus tuberosus, un tupinambur, che ha fioritura settembrina autunnale, quindi settembre-ottobre, e spesso magari l'avete assaggiato a questi tuberi che sanno di carciofo. Io volevo farvi notare, oltre al fatto che il fusto sia particolarmente peloso, la disposizione delle foglie, che è opposta. Quindi siamo nella famiglia delle asteracee, però vedete che le foglie si dispongono in maniera opposta. In verità poi crescendo, ve ne faccio vedere una un pochettino più cresciuta, ecco qua, le foglie non hanno tutte questa disposizione, sono opposte, però alcune si dispongono anche in maniera alterna. Quindi questo qua è già più sviluppato, eccolo qua. Ve lo farò vedere poi a settembre-ottobre, quando sarà fiorito. Eccolo qua. Tupinambur e Glianthus tuberosus.